Ha una poesia particolare ma io direi che così lo conosco da anni perché ci frequentiamo qui almeno una volta all'anno a flussi diversi e lui è anche noto perché è un grande editore della poesia col nome di Campanotto. Lui parte dagli occhi forse la sua poesia, poi la scrive e ormai la edita e fa conoscere la poesia e i poeti un po' dappertutto. Forza Marcello, grazie.